Ciao ragazzi, per chi non lo sapesse, neanche che avessi 100 miliardi di iscritti, io sono Rickman E oggi parleremo del simbolo che blocca gli iPhone Dai, non vi dovrei spiegare cosa succede se ricevete questo simbolo Perché YouTube è pieno zeppo di video, vi basta scrivere simbolo e iPhone senza aggiungere altro simbolo Ippone e vi vengono fuori una strage di video Quindi io non sono qui per spiegarvi cosa succede Più che altro sono qui per fare un piccolo ragionamento con voi Cioè, questo simbolo potrebbe bloccare anche gli Android? La vostra risposta sarà sicuramente Ma tutti i droghi, vero? Io con Android l'ho visto tante volte e non è successo un cazzo Sì perché potrebbe bloccare anche Windows No, sto scherzando Però voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto che è successo personalmente a me Non me l'ha raccontato nessuno, è successo sulla mia pelle E è successo esattamente qui dove c'è la pelle Cioè, no, è successo il mio telefono Però dato che lui non ha la pelle Facciamo finta Che è successo sulla mia Ok Allora, praticamente nel gruppo di classe Perché io ho anche un gruppo di classe Quindi ci sono circa 20 persone che hanno il mio numero Dovrei fare un numero apposta Perché non posso permettere che le persone sappiano il mio numero di telefono Eh, sono pur sempre un personaggio pubblico No, a parte le stronzate Io ho un gruppo di classe ovviamente perché facendo parte di una classe Dovrà pur esserci un gruppo dove poter chiedere i compiti A parte che scrivono solo minchiate Però non mi possono buttare fuori perché tanto l'amministratore sono io Quindi posso dire che li sparano solo cazzate A nastro A parte questo Un giorno un genio Arriva e manda sul gruppo 65.536 di questi caratteri che bloccano l'iPhone Adesso 65.536 o giù di lì Perché io non è che so il numero preciso Dovrebbe essere il limite che consente Whatsapp al video di un messaggio Cioè noi non possiamo mandare più di 65.536 caratteri In un singolo messaggio Perché se no Che gazzolo legge Già uno dubito che lega 65.536 caratteri Figuriamoci di più Però ok Arriva questo genio e manda il massimo Dei caratteri che puoi mandare su Whatsapp Uno dietro l'altro di questo simbolo Che appunto è quello che blocca gli iPhone A un mio amico ovviamente anche l'iPhone gli si è bloccato Perché ovviamente è un simbolo che blocca gli iPhone A un certo punto gli è venuto fuori lo schermo bianco E la mela nera Il logo di Apple E questo ci sta nel senso Lui non avrebbe dovuto mandare questi caratteri Ma è successo Un secondo Se vi ricordate l'anno scorso Era venuto fuori un video che bloccava gli iPhone Ecco Questo ragazzo Che vi sto raccontando oggi E' quello che ha mandato anche il video l'anno scorso E' sempre lui In pratica io ho ricevuto questo messaggio E cosa ho detto Posso guardarlo perché tanto non succede un cazzo Invece no Poi pensando ci ho scoperto Che se tu ricevi un messaggio con troppi caratteri Il telefono ha bisogno di una forte potenza di calcolo Per riuscire a Come dire Visualizzarli tutti In un certo senso E quindi il mio telefono Essendo un telefono poco potente Perché con i telefoni Più potenti ovviamente non succede Perché era giusta potenza di calcolo E quindi dice Cazzo me ne frega a me Però io che ho un telefono poco potente Il mio telefono si è bloccato Adesso andava tutto Come prima Non è che si è bloccato E basta non andava più Andava Potevi fare qualsiasi cosa Però nel momento in cui entravi nel gruppo di classe Avevi un po' di difficoltà Nel senso Continuava ad andare Però laggava come pochi al mondo Tu andavi su Lui stava fermo E dopo 2-3 secondi Andava su Non potevo cancellare il messaggio dal gruppo Perché non me lo lasciava fare Nel senso Io tenevo premuto Ma dopo 7 ore si selezionava E cioè Non Nel senso Era poco agibile Perché poi tu pensavi che non lo avesse preso E in realtà l'aveva preso Quindi poi deselezionavi tutto Era un po' un bordello E quindi cosa ho fatto Ho preso Whatsapp Web Perché come sapete Whatsapp lo potete collegare ad internet Tramite Whatsapp Web Web.whatsapp E quindi ho collegato il mio account di Whatsapp Ad internet con Chrome Cosa che non c'entra E appunto da lì sono riuscito a cancellare il messaggio senza problemi Ovviamente tu poi cancelli il messaggio E poi è tornato a funzionare tutto come prima Però Come se non bastasse Cosa succede? Che un genio Arriva e cita quel messaggio Perché doveva chiedere Cos'è che fa questa roba? E ovviamente Essendo che aveva Ha citato proprio quel messaggio Il mio telefono Si è ribloccato Grazie Mi sa che lo fate apposta eh Quindi Riva sul computer Perché poi Quando faccio l'accesso a Whatsapp Web Poi Disconnetto in modo che Nessuno poi possa entrare sul mio Whatsapp Rifai l'accesso con Whatsapp Web Rifai tutto Cancella il messaggio E finalmente Nessuno poi Ha citato il messaggio Grazie Poi però ho scoperto Che non solo il mio telefono Si era bloccato Eh perché Si che fa schifo ma Oh Non è l'unico al mondo Ma si erano bloccati Anche alcuni android Degli altri miei amici Che hanno telefoni Poco potenti Come il mio E quindi ok Questa era la storia Però Non mi spiego Una piccolissima cosa Nel senso che A un mio amico Non si è bloccato Ricevendo questo messaggio Su Whatsapp Nel senso che Lui ha ricevuto il messaggio Su Whatsapp E vaffanculo Se ne è fregato Però Ha ricevuto lo stesso messaggio Anche su Telegram Da quello che ha raccontato lui E su Telegram Invece si è bloccato Si è bloccato Telegram Io non mi spiego Il motivo Nel senso che Su Whatsapp Non si è bloccato E su Telegram Si Quindi Solo questa cosa Non mi spiego Quindi la risposta è Questo simbolo Blocca anche Gli android? No Non blocca Anche gli android Ovviamente Il mio si è bloccato Perché ce ne erano Tanti di fila Ma Si sarebbe bloccato Anche se mandavi Tante Y Una dietro l'altra Per 65.536 volte E' ovvio che si blocca Quindi Tranquilli Non blocca anche gli iPhone Perché se ne visualizzate uno E Anche se avete un telefono Più potente Ne visualizzate 800 miliardi Non succede niente State tranquilli Quindi Si Forse avete perso tempo Guardando questo video Però Dai Avete scoperto Che esiste il simbolo Che blocca gli iPhone Perché Probabilmente Non lo sapevate neanche voi Bene ragazzi Per questo video finito Spero che vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Lasciate tantissimi like Circa 500 No Facciamo anche 65.536 Che ci sta Condividetelo tantissime volte Su tutti i social esistenti E noi ci troviamo In un prossimo video Ciao belli Ciao Ciao Ciao